Sabato 7 e domenica 8 settembre gli appassionati delle due ruote si daranno appuntamento in Valle di Susa per la quarta edizione della Pellegrina Bike Marathon. Come hanno spiegato gli organizzatori nel corso della conferenza stampa ufficiale e della manifestazione che si è tenuta nella sede della città metropolitana di Torino, l'evento prenderà il via sabato 7 settembre a Davigliana con momenti di intrattenimento e una serie di talk show in via di definizione, ma anche con escursioni, la via francigena for all e la prima edizione della mini pellegrina. Quest'anno siamo orgogliosi di annunciare la quarta edizione che si terrà il 7 e 8 di settembre, quest'anno c'è la novità di una nuova location, siamo sempre a Davigliana ma nella prestigiosa piazza del Campo del Palio, è un'occasione per tutti gli amanti della bicicletta, ricordiamo che è una manifestazione non competitiva quindi aperta a tutti, addirittura c'è anche l'opzione last minus che noi organizzatori non consigliamo, però certamente chi decidesse all'ultimo può farlo e daremo l'occasione anche alle persone portatori di handicap e di venire comunque a pedalare e a camminare la pellegrina by marathon. Vi aspettiamo tutti il 7 e l'8 settembre, ricordo che il sabato 7 ci sarà allestito un village ricco di stand e sarà anche un'occasione per il territorio di mettere in mostra le sue risorse. Domenica 8 settembre tutti i partecipanti pedaleranno su uno dei 5 percorsi completamente rinnovati, Gravel lungo di 103 chilometri, Gravel medio di 70, Gravel corto di 50 chilometri, Strada Valsusa di 105 chilometri e Short Family di 17 chilometri.